Erano soliti agire così, entrando a volto scoperto, rapinando le banche, utilizzando un trincetto. La loro sfrontatezza però alla fine li ha traditi. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Lucca hanno arrestato tre persone accusate di 14 rapine in banca commesse in tutta Italia tra il 2012 e il 2013. Le indagini erano scaturite dopo un colpo messo a segno il 26 aprile 2012 alla filiale di Porcari della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, alla quale si riferiscono queste immagini. Armati di trincetto, una volta entrati, Rosaria Otranto, 41 anni, e Antonio Nicolao, 56 anni, avevano preso in ostaggio una cliente e si erano fatti consegnare 5.000 euro. Grazie ad una lunga e complessa serie di indagini, i carabinieri sono riusciti ad arrivare all'identità dei due malviventi, individuando un sodalizio criminale molto più vasto, composto da una quindicina di persone di origine campana. I carabinieri hanno imputato alla Otranto e al Nicolao, insieme ad un terzo soggetto, Vincenzo Delia, 49 anni, ben 14 rapine compiute in tutta Italia per un bottino complessivo di oltre 370.000 euro. I tre accusati di associazione delinquere, rapina e sequestro di persona si trovano adesso rinchiusi in carcere.